Eravamo tutti in attesa ieri dello stream revealed da parte di Bungie per quanto riguarda il nuovo DLC di Osiride in arrivo il 5 di dicembre invece lo stream è stato annullato per quanto sappiamo per dare priorità ad un post fatto sul loro blog riguardo al mega aggiornamento in arrivo e che va a toccare diversi aspetti del gioco questo aggiornamento sarà una vera e propria rivoluzione sotto alcuni aspetti e siccome i cambiamenti sono tanti hanno deciso di spezzettare l'aggiornamento in due tranche la prima in arrivo il 5 di dicembre insieme al DLC la seconda il 12 di dicembre quindi dopo una settimana noi per non fare confusione andremo con ordine vedremo prima le cose che verranno aggiunte e cambiate il 5 di dicembre e poi quelle del 12 vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché quelle del 12 sono molto molto interessanti allora quindi cominciamo dal 5 di dicembre il primo step sarà quello dell'introduzione degli ornamenti delle armature sarà un accessorio in più per personalizzare le nostre armature che non andrà a toccare le shader come vediamo ce n'è uno giusto giusto per lo stendardo di ferro che si sblocca vincendo 25 partite nella seconda stagione dello stendardo quasi tutti i set avranno ornamenti e saranno i seguenti il set dell'avanguardia avrà i suoi ornamenti, il crogiolo, le prove dei nove, lo stendardo di ferro appunto l'orbita morta, il culto della guerra futura, la nuova monarchia e le nuove armature del nuovo ride del DLC di Osiride quindi questa sarà un'aggiunta prettamente estetica che naturalmente aggiunge qualcosa di più da ottenere nel gioco ma sicuramente non è una cosa così strabiliante passiamo all'armaiolo sempre il 5 di dicembre si aggiornerà come vedete dallo screen sarà possibile acquistare direttamente le mod leggendarie senza passare per la roulette delle mod casuali e quindi uno spreco di materiali che poi naturalmente conosciamo tutti queste mod saranno casuali ogni giorno quindi bisognerà stare attenti a non perdersi quelle che magari ci servono in più tutte le mod rare, quindi quelle blu quando smontate ci daranno in cambio materiali dell'armaiolo e la possibilità di componenti mod leggendarie che poi ci serviranno appunto per comprare le mod viola anche il Cryptarchia avrà qualcosa da vendere dopo il 5 di dicembre infatti ci sarà la possibilità di comprare da lui direttamente engrammi leggendari in cambio di frammenti leggendari quindi ci sarà la possibilità di droppare direttamente dal Cryptarchia armi e armature che magari ci mancano tentando appunto questa roulette diamo uno sguardo ora ai peini di reputazione come sappiamo è un nodo controverso del gioco in questo momento il primo cambiamento riguarda le missioni giornaliere che compaiono nelle pietre miliari quei peini verranno aumentati di molto e non sarà più un solo pacchetto le casse di kaide verranno un po' migliorate nonostante il droppo continuerà ad essere random perlomeno dal 5 di dicembre in poi un tot di peini saranno assicurati dalle casse almeno per riuscire a prendere un engramma dal penito di ricerca gli assalti sia normali che eroici dropperanno molti più peini dell'avanguardia rispetto ad ora e i materiali che possono essere dati indietro ad ogni NPC quelli che naturalmente si trovano sui pianeti daranno in cambio molta più esperienza di prima e quindi avranno un impatto maggiore quando ci sarà da farmare engrammi su un pianeta però per equilibrare questa cosa ci sarà un aumento del 37% per fare un livello e quindi per prendere un engramma dagli NPC sui pianeti e il 50% in più per prenderli dall'armaiolo quindi se prima ce ne volevano una ventina una ce ne vorranno un po' di più quindi il 5 di dicembre oltre al DLC naturalmente che uscirà con i nuovi contenuti ci sarà questa piccola aggiustatina che però secondo me non ci farà uscire di testa andiamo avanti ora e guardiamo gli aggiornamenti che arriveranno il 12 di dicembre invece le armi prodigiose forse sarà la cosa più interessante di tutte di questo grande aggiornamento cos'hanno di diverso queste armi? sono identiche per la maggior parte alle armi leggendarie che già conosciamo qui abbiamo per esempio un bel dono di Uriel come esempio le armi prodigiose avranno dei vantaggi di base rispetto alle normali leggendarie il primo sarà quello di poter visualizzare il numero di vittime uccise con quell'arma sia in PvE che in PvP questa sarà una cosa che si potrà scegliere dentro l'arma queste armi avranno la possibilità di generare sfere di luce quando si fanno delle uccisioni multiple cosa importante avranno una statistica aggiuntiva che sarà completamente random e rerollabile in qualsiasi momento in questo caso per esempio c'è un più 10 alla velocità di ricarica che appunto potrà essere cambiata in impatto gittata, stabilità e così via quindi attenzione stiamo parlando di statistica aggiuntiva e quindi non di perk come si potranno droppare queste armi? come drop casuale dopo aver superato il 250 di luce tutte le armi leggendarie possono essere aggiornate ad armi prodigiose con un materiale speciale che dropperà soltanto smantellando un'altra arma prodigiosa le armi del raid e delle prove dei 9 avranno una percentuale maggiore di droppare armi prodigiose armi prodigiosi interessanti ma forse non abbastanza bisognerà vedere quel più 10 delle statistiche che tipo di impatto avrà sulle armi e la loro gestione un'altra cosa che verrà introdotto il 12 di dicembre sarà la possibilità di comprare direttamente armi e pezzi d'armatura dalle rispettive fazioni crogiolo e avanguardia compresi dando indietro pegni della fazione e frammenti leggendari tutti i pezzi d'armatura saranno sempre disponibili e le armi invece avranno rotazione settimanale passiamo a Xur adesso una cosa interessante che verrà implementato appunto nell'inventario di Xur sarà l'engramma predestinato un engramma esotico che costerà parecchi frammenti leggendari che vi permetterà però di ricevere in cambio un esotico che non è ancora presente nella vostra collezione quindi visto che Xur diciamo che a volte è un po' cattivo l'hanno reso buono dandoci la possibilità di concludere il nostro inventario di esotici spendendo dei frammenti leggendari tornano i 3 di Ori già presenti in Destiny 1 che altro non fanno che aumentare la possibilità di droppare esotici da qualsiasi tipo di attività e questo con una durata di 4 ore non ci saranno strani meccanismi dietro quindi non ci sarà un aumento di probabilità se più membri ce l'hanno attivo o cose del genere o non ci sarà bisogno di riusarli dopo ogni boss come accadeva ad esempio in Destiny 1 anche questi potranno essere acquistati con frammenti leggendari e potranno essere acquistati quante volte vogliamo la stessa cosa sarà disponibile anche per gli assalti e i match in crogiolo e sia Zavala che Lord Shax venderanno dei consumabili che potranno essere usati durante appunto rispettivamente assalti e crogiolo per ricevere in cambio maggiori ricompense che vanno dai peni di fazioni fino agli esotici quindi per quanto riguarda l'aggiornamento di dicembre questo è tutto però c'è un però è giusto ricordare come la Bungie ha voluto ribadire la loro volontà nel migliorare e nell'ascoltare la community inoltre hanno voluto ricordare come a gennaio ci sarà un altro aggiornamento simile a questo e punterà a migliorare le ricompense per tutte le attività prestige e autorevoli sempre nei primi mesi del 2018 il crogiolo verrà preso in più diciamo considerazione con l'aggiunta dei match privati e soprattutto le partite classificate le cosiddette ranked che conosciamo tutti da giochi come COD oppure Overwatch che potrebbero far sfociare poi in futuro Destiny un po' nell'ambito competitivo insomma tante cose per il momento io mi sono limitato semplicemente a farvi vedere quali sono i cambiamenti senza dare tanto la mia opinione a riguardo poi probabilmente farò un video soltanto per quello per il momento vi chiedo di lasciarmi un commento qui sotto al video per farmi sapere cosa ne pensate voi di tutti questi cambiamenti da parte di Bungie se vi piacciono, se non vi piacciono e se soprattutto riusciranno a far sì che Destiny 2 riprenda un po' di quota ciaoone